allora buonasera oggi il papa è finito le scuole Berlitz abbiamo c'è una nuova papa domani forse allora credo che siamo in ristorante dove il vino è buono in Italia capitolo 14 abbiamo il signor Bianchi, il mister White, il collega di Detroit è il ristorante dell'albergo Cabour, albergo Cabour ore 12 e 30 ore 12 e 30 sì sono le 12 e 30 allora il cameriere ha portato due piatti di spaghetti e comincia il signor White a dire perché sono tanto lunghi questi spaghetti è impossibile mangiarli così cosa fa signor White scusami scusi ma tagliare gli spaghetti non va bene lei dimentica che siamo in Italia brava ma sono troppo lunghi è impossibile mangiarli così guardi prenda il cucchiaio non la sinestra ecco, è la forchetta nella destra bene adesso faccia come faccia io ecco bravo Mi scusi, mi scusi, ma non c'è di che, non c'è di che, non c'è di che, il cameriere torna, il cameriere dice che cosa bevono i signori e il signor Bianchi risponde Ci porti una bottiglia di vino rosso, da Danara si c'è, per me un bicchiere di latte, caro amico, scusi, ha detto latte, con gli spaghetti e la rosa latte, non devo Dimenticare, siamo in Italia, siamo in Italia, non si può, non ci può, il vino italiano è molto buono, vedrà, bravo, mi scusi, mi scusi, ma poco un picchierino, grazie, basta per, basta così, guardi, guardi, quel tavolo lì, la famiglia Per i bambini, questo poi, questo poi, mamma mia, in Italia anche i bambini bevono vino, bevono vino, non poi di un dito, non più di un dito, non più di un dito, ma un poi ne bevono, ne bevono, sì, ok, il cameriere ha portato Il secondo piatto, il secondo piatto, l'arosto di vetello con patatine Le piace, le piace, le piace, la rosta, è molto buono, è molto buono, anche la salsa, allora Ancora, la verso, ancora, un po' di vino Le verso, verso Le verso, ancora, un po' di vino Grazie, grazie, sì, anche il vino è buono, ma come posso lavorare dopo? Spaghetti, rosto, vino? Lavorare 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 La ripeto Le ripeto, siamo in Italia Siamo in Italia Siamo in Italia Adesso, via, via, bevono, un buon espresso Espresso Poi, spassiggiamo un po', guardiamo le ragazze, poi un altro caffè e un finito, ritorniamo un ufficio Ritorniamo in ufficio Ritorniamo in ufficio Infine, infine Ok, benissimo Benissimo Allora Allora Finiamo il vino Tutto questo Tutto questo comincia a piacermi Bravo Roma Il vino L'espresso Le belle ragazze Alla sua salute, caro collega Alla sua Alla sua Alla sua Alla sua Alla sua Fantastico Fantastico E così si face in Italia Bevi un espresso, guardare le belle ragazze, fare una passeggiata, passeggiamo un po', beviamo un altro espresso e poi torniamo a lavorare Lavorare, lavorare No 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 Lavorare Siamo in Italia No In Italia Siamo in Italia, porco miserie Bene Ok Bravi, 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 arrivederci Grazie 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 Grazie